Mi ricandiderei con le solite premesse che sono quelle di allora, certo è un mestiere veramente molto difficile. Fare il sindaco? Si può avere un problema al giorno. Lo sa bene il pentastellato primo cittadino di Livorno, Filippo Nogarin, conquistatore esattamente due anni fa di una città rossa da sempre. L'ultima tegola che gli è caduta addosso è un jacquise pesantissimo, letto alla Commissione Affari Istituzionali dalla direttrice generale del comune Sandra Maltinti, da lui stesso nominata nel 2014. In comune Nogarin avrebbe provocato un clima di terrore fra i dipendenti e non solo. Tra le più gravi ingerenze della politica si segnalano gare in corso di pubblicazioni bloccate. Le dichiarazioni della direttrice generale sono state pesanti, tant'è che i commissari mi hanno incaricato di depositare il tutto in procura. Nogarin ammette l'errore di valutazione fatto nel nominare la direttrice, licenziandola. Pensavo anche di trovare energia in una persona che voleva in qualche modo, in qualche misura, darsi da fare per questa rivoluzione pacifica che stiamo portando avanti. Abbiamo sollevato una contestazione dando cinque giorni di tempo per fare delle controdeduzioni e poi si procederà nell'eventualità in cui queste non siano soddisfacenti a un licenziamento per giusta causa. Nella relazione la direttrice generale parla di un metodo di lavoro pentastellato approssimativo. Non seguire le procedure né i tempi né le modalità in maniera corretta sono diventate abitudine per questa amministrazione. Ci ritroviamo spesso a dover mettere delle pezze laddove vengono combinati dei guai da parte di questa amministrazione pentastellata. Ma Nogarin non si ferma. Ride mentre passeggia nei corridoi del palazzo comunale. Sembra non dar peso oggi all'essere stato indagato nel maggio scorso nell'inchiesta sulla gestione dei rifiuti della Spallivornese. Anche se dopo due anni da sindaco non se la sente proprio di dare consigli alle due nuove colleghe elette a Roma e a Torino. Credo che nessuno dei due troverebbe in me un saggio uomo capace di dare consigli. Veramente non è così che funziona. Se arrivasse un abuso di garanzia a una delle due? Probabilmente farei loro una telefonata per incoraggiarle se naturalmente fosse una cosa simile a quella che è accaduta a me.